Una mangusta! Dov'è? Non è una mangusta, è Johnny Cash. Adoro la musica country. È molto carino. Di solito gli uomini che sentono la mia voce si innamorano follemente di me e il loro cuore esplode. Scusi. Non dovrebbe ridere. Lei morirà come tutti gli altri. Tutti? Tutti. Il mio cuore è esploso già da tempo. È esploso? Sì, parecchie volte. Ora non sento più niente. Per me l'amore è finito. Gaspara. Sì? Il tuo cuore esploderà. E questa volta per sempre. While there. Oabeth? E aí? Allora? Grazie.